E carissimi amici ed amiche ancora qui ben ritrovati, ben ritrovati, parliamo del caso di Alice Neri, un'altra riflessione e anche per questo caso qua credo che se ne parlerà ampiamente questa sera, fra poche ore, fra qualche ora a quarto grado. Ora, vedete, su questo caso sta venendo fuori, e non me l'aspettavo, vi devo dire la verità, il peggio dell'animo umano. Ma questo peggio dell'animo umano che è sempre esistito, certamente non può essere una caratteristica di questo piccolo canale. Io ho sempre cercato, in tutti i casi che abbiamo analizzato, di avere sempre il massimo rispetto per la persona umana, per le donne in particolare che a volte sono l'anello debole, subiscono prevaricazioni da alcuni soggetti che, proprio per una questione di forza fisica e anche di mentalità, esercitano delle prevaricazioni. E soprattutto quando ci troviamo di fronte a un evento così tragico come quello di Alice Neri, bisognerebbe usare la prudenza nei toni, nei giudizi, evitare di essere moralistici, di condannare, specie se ci si riferisce ad una cultura, diciamo, cristiana, per chi ce l'ha. Credo che questo sia un discorso semplice, di base, da non confondere con il fatto che uno abbia un'idea. Però io posso avere un'idea che magari, chissà, la famiglia non era così colì, che forse magari nella mia famiglia ci sta un altro tipo di comportamento. Non sono... Ognuno, vedete, può pensare come vuole, ma la parola ha un peso. La parola ha un peso soprattutto quando non si conoscono i fatti. E non siamo nessuno noi per giudicare. E non lo dobbiamo fare. Quindi... Ho visto che, e mi dispiace che qualcuno ha esagerato, io, quando me ne accorgo, faccio un invito alla moderazione. Dopodiché, se mi trovo davanti a un muro di gomma, semplicemente sono costretto a bannare questi soggetti perché, a malincuore, non hanno capito il senso del vivere civile, della moderazione, del rispetto per gli altri. specie quando trattiamo di questi avvenimenti così dolorosi. Perché poi, in questo caso qui, in particolare, si è voluto far passare questa vita di Alice Nere, questo suo matrimonio, come un matrimonio quasi di facciata, in cui il marito avesse un ruolo di vittima precostituita. Ma io mi sono insegnato qualcosa. Non è così, perché, prima di tutto, nessuno ha mai detto che questa ragazza frequentasse qualcuno in particolare in modo intimo, in modo particolare. Non è emerso nessun tipo di frequentazione del genere. Sono emerse delle amicizie. Aveva numerosi contatti. Aveva un modo libero, aperto, di manifestare la sua amicizia. E quindi, fino a prova contraria, non travalicano la misura di una amicizia. Quindi, io non ho trovato nulla che potesse giustificare questo. Tant'è vero che i due casi di molestia che abbiamo saputo, lei aveva subito al lavoro, diciamo, lei li ha prontamente denunciati. Per cui, se fosse stata la tipa che certi moralisti vogliono dipingere, non si sarebbe fatto tanti problemi di andare a denunciare. Quindi, aveva una sua etica personale. Che se ne dica? Ognuno la pensa a modo suo. Quindi, sappiamo pure che c'è il famoso terzo uomo, quel collega confidente, chiamiamola così, della guamma. Un po' di atteggiamento, un po' così da piacione, va? Con certe carinerie che mostrava ad Alice, ma niente di più. Non è emerso nulla di più. E lo stesso quando dice che Alice quel giorno, quel 17 di novembre, alle 16.30, lui sapeva che doveva incontrare un altro muhammede, che non è il Galul, ma per collocare questa persona in un lavoro. Gli aveva chiesto una, ecco, un favore circa un lavoro che egli doveva fare. Quindi, nessuno ha mai detto lei aveva delle vite parallele o una vita parallela. Attenzione. Se vogliamo anche parlare di ciò che è emerso, noi non possiamo dire che è questo. E alla stessa amica Silvia, l'amica a cui lei dice che deve uscire con dei colleghi e si preoccupa, diciamo, di essere coperta da lei e dice se la so mai esce fuori con Nicola io sono stato sono stata da te. Ora, paradossalmente, se Alice avesse fregato proprio il rapporto con Nicola sarebbe uscita e basta senza dover dare troppe spiegazioni. invece si vede che lei ricorse a questo espediente non perché doveva andare dall'amante, no, perché doveva fare qualcosa che ancora non ci è chiaro. E allora aveva utilizzato questo espediente. Sono sicuro che quella sera lei avesse qualcosa di importante da fare. Qualcosa di delicato, è stato un segreto che magari non aveva confidato nemmeno al fratello Matteo. Tanto è vero che Nicola se stesso ha detto più volte che Alice quella sera era arrivata a casa già stanca, l'aveva vista stanca, non aveva tanta voglia di uscire, ma che disse che doveva andare a fare questa cena che doveva andare e non si preparò nemmeno più di tanto, uscì con gli stessi abiti con i quali andava al lavoro e anche in fretta. Quindi, ciò che significa? Questo voglio dire ai moralisti. Ricordo che se lei fosse andata al classico appuntamento con un innamorato, con l'amante, in quella serata anche fredda e piovosa avrebbe cercato cosa? Il caldo, il caldo di una di una casa col caminetto. Perché ricordo che Marco, l'amico dell'aperitivo, chiamiamolo così, viveva da solo, poteva benissimo farla venire a casa sua se Alice avesse voluto. Probabilmente era lei, era la stessa Alice che non ha voluto questo tipo di intimità, questo tipo di incontro a casa, nelle quattro mura. No! Lei, come già il 10 di novembre, aveva voluto un appuntamento in un luogo pubblico, seduto a un tavolino di un bar, con testimoni, con gente che andava, veniva, e hanno fatto molto tardi, sette ore, certamente sette ore di misteri, di problemi, di problemi, di segreti, qualche problema sicuramente, ma c'è una persona che non ha voluto parlare, che si è rifiutato di rispondere allora ho un dubbio come ipotesi. Questi problemi erano problemi di chi? Erano problemi di Alice che confidava a Marco o potrebbero essere problemi di Marco che confidava ad Alice? perché noi siamo sicuri che sia avvenuto una confidenza di problematiche di Alice o potrebbe essere il contrario perché come qualcuno ha scritto nei commenti che mi sono segnato qui il Galul il Galul Mohamed Galul che arriva allo smart caffè a quell'ora tarda senza soldi quindi non per andare a giocare alle macchinette può darsi che a quell'ora aveva in sospeso qualcosa ma non può essere che l'avesse in sospeso proprio con Marco perché dico questo perché io ho letto non sono insinuazioni ho letto testualmente che nell'auto di Marco sono state trovate sostanze stupefacenti se hanno scritto il falso vi dico il falso io l'ho letto quindi se è così può essere che egli in ipotesi fosse coinvolto in qualcosa con Galul punto interrogativo può essere che vi sia stata una sorta di chiarimento di ricatto di Galul e di Marco quindi Galul e Marco così come Galul magari aveva fatto una cosa di altro genere con quell'amica Tiziana sono concetture è vero che solo Galul però potrà chiarire ma si potrebbe pensare che Alice nel suo spirito amichevole intraprendente abbia voluto parlare mediare con il Galul per risolvere la situazione lei prendeva al cuore come ci ha detto pure qualche volta il fratello prendeva al cuore le situazioni di chi aveva bisogno degli altri quindi non mi meraviglierei che fosse una problematica che lei si metteva per lo mezzo a risolvere quindi questo noi non potremo mai sapere se non sarà lo stesso Galul che parlerà allora qualcuno potrà dire vabbè questa è un'ipotesi un po' così che ovviamente non può essere dimostrata però però credetemi mi sembra anche surreale sullo stesso livello almeno che il Galul senza conoscere Alice va vicino alla macchina o la bacia oppure la minaccia fammi salire in macchina sale in macchina dammi un passaggio via vallalta dammi subito il telefono togliamo la geolocalizzazione poi guida tu che io metto il navigatore poi andiamo piano piano fino a via vallalta poi ci ripenso no va bene non voglio andare più a casa voglio magari stare con te e ritorniamo però a via forella da dove siamo partiti e tornano lì così a via forella dopo tutto questo peregrinare alle 4 però un attimo Alice sei in vita dice aspetta che devo fare il messaggio alle 4.07 a Marco ciao marocchino oppure il messaggio do far galula ciao marocchino come un segnale di qualcosa o come come minaccia come dire mi sono liberato di quello che lui considera della sua ragazza quindi in quel momento Alice è viva o è morta già e cosa ci fa poi se fosse già mostra cosa ci fa un'ora la macchina ferma lì al buio e mostra perché per quale motivo e poi alle 4.50 quella ricerca sul cellulare di Alice poggio rusco perché era galula che doveva cercare complici complici o magari la stessa Alice ancora in vita perché in macchina siamo sicuri al 100% che ci fosse il galula ancora o il galula fosse sceso fuori dall'inquadratura della camera fissa fosse sceso qualcun altro fosse salito fosse stato intercettato ci fosse il famoso quarto uomo che magari aveva qualche riferimento in quella zona lì di poggio rusco e in tutti i casi perché perché ucciderla e allora rimane in piedi l'ipotesi dell'incidente dell'assunzione di stupefacenti e poi si dà fuoco per far sparire le impronte ma se è stato valullo perché poi si dà la fuga ma dopo otto giorni però eh non dimentichiamo quindi perciò non si può giudicare vedete le cose noi non le sappiamo vedete quanti punti interrogativi vogliamo giudicare no quella non era una donna per bene perché la figlia a casa il marito non ci si composta così perché si è andata a cercare non non possiamo e poi vedete poi parliamo di educazione poi parliamo che gli insegnati di rispetto per la vita umana e per 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 le persone già dalla prima elementare ma quali insegnanti siamo noi quando seminiamo odio non lo possiamo fare poi vedete anche il fratello Matteo dice e conferma quello che ha detto anche Nicola strattonde che era capitato altre volte che Alice andasse fuori così facesse anche tardi la sera con colleghi e colleghe ma mai era stata fuori l'intera notte e comunque lei non aveva nessun amante nessuno è autorizzato a dire questo e allora dobbiamo solo vedere cosa è successo perché è successo cosa è successo e per mano di chi è successo questo è quindi vi invito sempre ancora alla moderazione vedremo fra poco se ci saranno altre novità io vi ringrazio sempre dell'attenzione e do un saluto e un abbraccio a tutti quanti voi di chi Grazie.